Mi chiamo Emanuela e sono in Verisure da quasi tre anni. Verisure mi è piaciuta perché offriva tante possibilità di crescere e di conseguenza ho cominciato a mandare curriculum, ma è stata dura. Però la sfida era importante e io l'ho voluta accettare, soprattutto perché nella delegazione dove sono stata inserita ho avuto modo di conoscere una branch manager donna che mi ha dato sinceramente degli stimoli importanti. Il mio ruolo presuppone sicuramente tantissima empatia e una forte leadership. Per questo intendo che la nostra squadra io la vedo un po' come una grande barca, tutti remiamo, io per prima. Di conseguenza c'è una collaborazione sicuramente positiva e proattiva. Il mio consiglio è quello di avere un obiettivo e perseguirlo perché a prescindere da quella che può essere la vita personale di una donna, molto diversa da quella di un uomo, tutto è possibile. Grazie a tutti.